Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con lo speciale di Medicina Amica. La tematica al titolo di questa trasmissione è appunto dedicato a Gondola, nuova terapia per i disturbi motori. Qui con noi in studio abbiamo il dottore Stefano Tassin, buonasera e ben ritornato. Noi ci siamo già conosciuti, la ripresento perché lei è fisioterapista ma è anche direttore scientifico di Gondola Technologies ed è oggi qui appunto per parlarci dei nuovi sviluppi, delle nuove ricerche che ci sono in campo appunto delle patologie e dei disturbi motori. In particolare daremo anche, diciamo, daremo una particolare attenzione al Parkinson che è questa patologia neurodegenerativa che è tra le più diffuse al mondo. Stiamo parlando della seconda patologia neurodegenerativa per causa di morte e in particolare parliamo dei dati in Italia. Questa patologia colpisce più di 350.000 persone e purtroppo la diagnosi avviene sempre più precocemente. Questo dato che abbiamo appena diffuso è un dato veramente molto in difetto perché sono molte di più le persone che potrebbero soffrirne e addirittura l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevede che entro il 2030 questo dato sarà raddoppiato. Quindi parliamo di oltre 600.000 persone. Sì, la malattia di Parkinson è una malattia, come diceva, molto diffusa, sempre di più, anche perché l'età vita media delle persone aumenta di più e dunque tendenzialmente ci si trova contro questo tipo di malattia. È una malattia molto diffusa e soprattutto con dei sintomi veramente seri. È una malattia che si presenta oggi abbastanza facile, la diagnosi, ci sono una serie di strumenti che serve per diagnosticarla e nel momento in cui viene diagnosticata si incomincia ad assumere un certo tipo di farmaco, tendenzialmente sono dei dopaminergici che tendono a migliorare la qualità di vita di questi pazienti. La malattia di Parkinson non è, come normalmente si pensa, la malattia solo del tremore. La malattia di Parkinson è molto più complessa. Il tremore può essere all'inizio uno dei primi sintomi, ma poi i veri problemi sono quelli motori. Dunque ci troviamo di fronte a un problema serio perché dopo 4-5 anni di questa malattia arrivano veramente le turbe del cammino, quelle veramente che portano una serie di fastidi importanti a chi è affetto da questa malattia. Le cose più diffuse come sintomi sono il freezing, il blocco motorio, il paziente fa fatica a camminare, quando deve ripartire i passi non vengono avanti, soprattutto una serie di disturbi che oggi purtroppo spesso e volentieri non vengono gestiti dai farmaci o perlomeno nella prima parte di vita del farmaco riescono a tenerli a bada. Quando la malattia diventa più seria questi sintomi sono molto molto invalidanti. Ecco allora, mentre i farmaci comunque riescono a tenere sotto controllo questi disturbi motori per i primi anni, diversamente succede a distanza appunto di 4-5 anni e lei è appunto ricercatore insieme ad un staff, diciamo di ingegneri, di tecnologi, che ha ideato questa nuova tecnologia, questa nuova terapia che non ha effetti collaterali, che può essere comunque praticata con appunto l'utilizzo dei farmaci che già vengono presi oppure semplicemente già per le persone che fanno anche della riabilitazione. E questa terapia, l'abbiamo già visto anche in un'altra puntata, è veramente straordinaria perché in soli 96 secondi riesce a ridare la vita, la capacità motoria, l'indipendenza alle persone che soffrono di Parkinson. Senza, diciamo, nessun tipo di dolore, nessun magnete, nessune... Sì, sì. Solo con, diciamo, questa tecnologia si basa su, adesso lo vado a prendere, sulla neurostimolazione periferica non invasiva, chiamata AMS. Lascio dire lei esattamente qual è, diciamo, la ricerca che è stata fatta. Allora, abbiamo, siamo partiti da un concetto. Nel momento in cui il paziente, dopo 4-5 anni di questa malattia, ha queste turbe del cammino, ci siamo posti l'onere di capire cosa si poteva fare per migliorare questi sintomi. In realtà i sintomi più invalidanti sono proprio quelli della turba del cammino, la marcia. E ci siamo posti il dubbio di riuscire in qualche modo a migliorare questo tipo di fenomeno creando degli stimoli esterni. Gli stimoli esterni ne abbiamo identificati nel corso degli anni due, che sono estremamente importanti e estremamente significativi per il nostro cammino. Quando noi camminiamo, noi abbiamo una percezione del nostro corpo, dell'ingombro del nostro corpo. E il nostro cervello deve fare uno sforzo molto importante per mandare un'informazione dal cervello al nostro midollo fino ad arrivare alle periferie e dar la possibilità di alzare una parte del nostro piede, in questo caso l'alluce, e creare un'adduzione dal dorso del piede e fare il passo. Nel paziente parkinsoniano, visto che questa è una cosa estremamente difficile, costa tanto a livello di fatica celebrale a compiere questa azione, è uno dei sintomi principali che il paziente dimentica di fare. Se voi osservate un paziente con questi sintomi, vi renderete conto che è un paziente che tende a camminare con una natura piatta, dunque evita lo srolottolamento del piede. Ecco, come si può vedere in questi video, è molto difficile l'innesco della marcia. Dopo, se riesce a superare questo fastidio, poi il cervello riesce comunque in qualche modo a mandare un comando. Guardate che questo signore che ha fatto 90 secondi di terapia e si è messo a correre. Eh sì, questo è. Dunque, la concentrazione è stata su come riuscire a migliorare, creando uno stimolo proprio al piede per ridare la possibilità di questo srotolamento del cammino. Abbiamo identificato due punti, dopo anni chiaramente di prove, che è una è la testa dell'alluce, cioè il punto più lontano del nostro corpo. E il secondo punto, estremamente importante, è la base del primo metatarso, che c'è un ossicino che si chiama sesamoide, dove passa un tendine apto a creare a noi l'alzata del piede. Dunque, creando questo tipo di stimolo, poi lì c'è stato chiaramente tutta l'equipe insieme per riuscire a capire i tempi, come riuscire, il diametro di stimolo è estremamente importante, il tempo di stimolo e soprattutto l'intensità dello stimolo. In questi anni, lavorando su questo tipo di ricerca, siamo riusciti a creare appunto lo stimolo perfetto, perlomeno quasi perfetto. Nasce Gondola, questo dispositivo che crea appunto, sono due scarponcini che il paziente inserisce all'interno di questo scarponcino e crea questi due stimoli di una velocità di ogni stimolo di circa 6 secondi su ogni punto prestabilito e la durata è di 96 secondi. 96 secondi dopo il cervello ha ripreso quei due comandi che abbiamo detto prima, dunque ha riconosciuto la lunghezza del nostro corpo e ha capito, si è incentivato l'adduzione del nostro piede, a quel punto il paziente torna a camminare decisamente meglio di prima e soprattutto questo fenomeno di blocco motorio iniziale diventa estremamente limitato, cioè siamo in grado di ridurre questi sintomi dell'80-90%, che è tantissimo. E una delle cose stupende è che in una stimolazione così veloce il paziente mediamente sta bene da 2 a 5 giorni. Dopo 2 a 5 giorni a seconda del paziente bisogna ripetere la terapia a casa? A casa, sì, dopo ne parleremo a casa, sì. Dopo 5 giorni il paziente finisce questo effetto di afferentazione del nostro cervello, viene ripetuta e lui per altri 3-5 giorni sta bene. Questo permette di riprendere una vita, non dico normale, ma sicuramente molto 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 meglio di prima. E soprattutto il rischio di cadute, perché questo fenomeno è veramente invalidante. Lei provi a immaginare di essere seduta in questo momento, volersi alzare per compiere qualsiasi azione e il cervello non le dà la possibilità di muovere i piedi. Ecco, abbiamo ascoltato in passato le testimonianze dei vostri pazienti, che anche proprio nelle azioni quelle quotidiane, quelle più semplici, che per noi possono sembrare banali. Il doversi alzare di notte per andare in bagno. Non riuscirci perché è l'effetto del farmaco in fase di rebound, quindi non essere in grado di... E quindi diventa un problema estremamente serio e dunque lì diventa una malattia della famiglia, perché non dimentichiamoci che, come stava dicendo adesso, in realtà se io di notte ho questo problema e non riesco ad andare in bagno, il mio compagno o comunque qualcuno in casa mi deve dare una mano ad alzarmi, facendo molta attenzione, perché il rischio di caduta, soprattutto quando il farmaco è sottodosato nelle ore notturne, diventa veramente molto difficoltoso. Poi quasi tutti i pazienti alla mattina, dopo il risveglio, si svegliano comunque con una sorta di rigidità superiore e questo sicuramente porta a una serie di handicap importanti al paziente. Talmente tanto importante che porta un altro fenomeno, che si chiama paura, che non è un fenomeno da sottovalutare. Il paziente che incomincia ad avere una turba del cammino, incomincia a ridurre la sua capacità motoria, dunque riduce anche nella sua vita, meravissima, riduce nella sua vita anche le cose da fare, dunque riducendo le varie cose della sua giornata, riduce la capacità motoria, si riducono i muscoli, si stanca molto più facilmente e poi irrevocabilmente tendono a finire seduti tutto il giorno su una sedia a rotelle. Perché è più facile, non perché il paziente non sarebbe o non è più in grado di camminare, ma se il rischio di caduta è di 30 volte al giorno, forse è meglio che rimani seduto su una sedia. Quindi invece con questa terapia il rischio si diminuisce parecchio. In realtà, bravissima, con questa terapia unito a un'azione farmacologica, perché non è che gondola è... Falzare la dopamina. Falzare la dopamina. La gondola è uno stimolatore, che fino a qualche tempo fa non esisteva. È uno stimolo esterno che crea una nuova capacità al cervello, come se ricordasse qualcosa che si era dimenticato, e riattiva delle aree. Unito alla dopamina che si dà normalmente, queste due cose insieme creano un miglioramento importante nella vita dei nostri pazienti, che altrimenti non hanno. Comunque, il fenomeno del freeze è un fenomeno mondiale, cioè non è che gli americani piuttosto che i francesi sono più bravi degli italiani, o c'è qualcosa. È proprio un fenomeno che non si riesce a curare. La concentrazione massima, in questo caso, proprio sul Parkinson, è sulla turba del camino. Perché? Perché i farmaci che esistono sul tremore riescono a migliorare notevolmente questo sintomo. Ma quando si parla di sintomi motori forti, ecco lì, a parte gondola, in questo momento non ci sono molti ritrovati. Ecco, in Italia, così come nel resto del mondo, ci sono tanti centri di eccellenza, no? Assolutamente. Che seguono i pazienti che hanno il Parkinson. Però la riabilitazione, lasciamo stare il campo farmacologico, che comunque lì si sta lavorando anche su quel campo. In campo riabilitativo, che cos'è che viene fatto? Beh, intanto, dal punto di vista farmacologico, mi permetto di correggere questa cosa, ci sono nuove molecole, ci sono sicuramente... Sì, sembra ci sia quella che sta per sviluppare la dopamina, no? Sì, ma in realtà sono cose che noi sentiamo da tanto tempo. Poi, di base, i farmaci che vengono dati ai pazienti sono rivisti e corretti, ma sono sempre gli stessi. Poi possono variare il nome o qualche formula, però grandi miglioramenti non ce ne sono stati. Tenga in considerazione che due case farmaceutiche importantissime a livello mondiale hanno annunciato qualche mese fa il fatto di non proseguire studi sui farmaci, sui pazienti parkinsoniani, proprio perché non ci sono miglioramenti. Cioè, costa tantissimo e i risultati sono molto, molto scarsi. Dunque, non è proprio così. In realtà è un freno a mano nel mondo del farmaco sui pazienti parkinsoniani. Invece, per quanto riguarda la riabilitazione, la riabilitazione, ci sono questi centri, bene o male sparsi sul territorio, non soltanto nelle grandi città, ma in parecchi paesi, anche in Italia, troviamo questi centri di neuro-riabilitazione dove il paziente con questi sintomi viene ricoverato circa quattro settimane, dunque gli viene prospettato queste quattro settimane una volta all'anno dove fanno dell'attività riabilitativa all'interno, dove vengono seguiti sicuramente di più che a casa, nel senso che se ce l'hai a casa e sulla sedia a rotelle, se sei in un centro di riabilitazione, insomma, il paziente viene invogliato a fare. Dunque, fanno riabilitazione a 360 gradi, poi ogni centro di questo utilizza delle loro strategie e lì sicuramente il paziente ha un po' di giovamento, perché bisogna essere onesti, nel senso che se comunque tu sai che devi fare tre ore al giorno di riabilitazione... Ma io questa domanda gliel'ho fatta perché lei viene comunque da questo mondo, no? Io vengo da questo mondo. Cioè lei era fisioterapista, è tuttora fisioterapista e lavorava con le persone malate di Parkinson, faceva riabilitazione quella classica, quella conosciuta? Certo, la neuro-riabilitazione più che la fisioterapia sono due cose che sono proprio dettagli molto diversi. Allora lei faceva neuro-riabilitazione con dei risultati... Con dei risultati che in sede all'interno di queste strutture tendenzialmente sono confortabili, perché il paziente entra con un certo grado di mobilità e nel momento, dopo quattro settimane, sicuramente il trend è positivo, non è negativo, ma cosa succede? Succede che nel momento in cui il paziente ritorna a casa, nell'arco di pochissimo tempo, stiamo parlando di un mese, sto esagerando, torna né più né meno come quando è entrato. E questo è spiegabile perché? Perché intanto non ha più nessuno intorno che lo invoglia a fare della ginnastica, a muoversi, a fare delle attività, ma anche perché, secondo il mio parere, le cose che sono servite per cercare di muoverlo non sono state registrate. È chiaro? Dunque tu fai un qualcosa perché io ti obbligo a fare qualcosa, che non è la tua iniziativa. Perché nel mondo del Parkinson è proprio così. Nel momento in cui, intanto è vero, un test per vedere l'inabilità dei pazienti Parkinsoniani, si chiama dual task, cioè io parlo con te mentre tu cammini. Il paziente Parkinsoniano ha due cose insieme e non è in grado di farle. O ti ascolta e si ferma, o cammina. A farlo ragionare mentre cammina diventa veramente un dispendio di energia enorme. Dunque non è in grado di farlo. Nelle attività, nelle quattro settimane, non fanno questi tipi di lavori. Cercano di riabilitarlo dal punto di vista fisico. Motorio. Scusi. Sì, dal punto di vista motorio. Qui noi abbiamo creato qualcosa di estremamente diverso. E non ne nascondo anche inizialmente, anche da parte nostra sembrava un qualcosa di assolutamente stravolato. Cioè non faceva parte della nostra pratica. Come fa una stimolazione in un certo punto del piede a migliorare in maniera estremamente significativa dei sintomi che all'interno di quelle quattro settimane comunque migliorano molto poco, soltanto in 96 secondi. È veramente una rivoluzione incredibile. Una rivoluzione dove permette nuovamente nuova vita a questi pazienti. Un paziente che ha 7, 8, 9 anni di malattia, che si trova comunque, che guarda un orizzonte molto prossimo a lui dicendo presto finirò sulla sedia a rotelle e scoprire che oggi abbiamo più di ormai 10 pubblicazioni scientifiche che lo dimostrano. In 96 secondi con questo device siamo in grado di ridarti nuova vita o comunque un netto miglioramento delle tue perfori motori e io penso che siamo di fronte a un cambiamento epocale. Quindi le persone che abbiamo avuto anche qui le testimonianze, no? che non riuscivano più a praticare le cose anche semplici, scrivere o muoversi con la macchina, frequentare ambienti pubblici, andare a fare la spesa, andare fuori a mangiare. Certo. Lavorare, perché ancora nell'età lavorativa, perché non abbiamo toccato il tasto, l'abbiamo menzionato all'inizio, che colpisce sempre ad un'età più giovanile. Assolutamente, questo è. Gondola funziona molto bene per dei sintomi motori molto invalidanti. Cioè la scrittura fa parte dei primi sintomi. Il paziente scrive, parte con una scrittura molto ampia e poi tende a fare la micrografia, dunque diventa molto piccolo, fa molto fatica. Questo qua è un sintomo che però si riesce, non sempre, ma in qualche modo a tenere a bada abbastanza bene con l'uso dei farmaci. Cioè la deve immaginare in questo modo, che il farmaco riesce in qualche modo a inibire questo tremore utilizzando delle aree corticali superiori. E dunque il farmaco lì riesce a fare breccia. Ma quando il problema di questo Parkinson comincia a scendere nel nostro cervello, laddove ci sono delle attività molto più complesse, non riesce a funzionare. O comunque funziona molto male. O non funziona come dovrebbe. È lì che noi entriamo in atto con questo tipo di stimolo. Una delle pubblicazioni che abbiamo fatto, estremamente bella a mio avviso, è stata su una rivista dove abbiamo dimostrato che creando quella risonanza magnetica funzionale, osservando il cervello prima del nostro paziente, con una certa attività fuori dalla risonanza magnetica e fatto questo tipo di stimolazione, ritornando in risonanza subito dopo, si è visto un incremento delle aree motorie. Dunque quello che si vedeva in maniera empirica effettivamente lo ha dimostrato anche le risonanze magnetiche. Questo vuol dire che noi con questa stimolazione siamo in grado di attivare delle aree. Quello che è, è che ogni X giorni tu lo devi comunque rifare. Perché? Perché per malattia il cervello non è in grado di mantenere costante questo risultato. Cioè nella riabilitazione un paziente che ha un problema fisico, ha rotto un ginocchio o quant'altro, fa della riabilitazione giorno per giorno migliore e a un certo punto smetterà di farla perché è arrivato al suo dunque. Dunque la sua gamba è tornata a posto, non ha più bisogno di farla. Qui invece è uno stimolo lei deve immaginare come tante piccole lampadine o parte di queste lampadine siano leggermente spente. Con questo dispositivo le riaccendiamo, il paziente le lascia accese per 3-4 giorni e poi tendono nuovamente a spegnerle. Ma la cosa bella è che si riaccendono sempre ed è la cosa bella che siamo entrati nell'ottavo anno di stimolo. Dunque non siamo più al primi dell'arbori dove chissà cosa succede tra un anno, due, tre. I pazienti che fanno con regolarità questo tipo di stimolo continuano a stare bene. Quindi ritardano l'imisorabile degenerazione della patologia che lei diceva è molto veloce, si rischia di finire sulla carrozzina magari nell'arco di pochissimi anni. Bravissima, bravissima. Noi non abbiamo una pubblicazione scientifica anche perché lì ci vogliono anni. Bravissima, dove dice noi siamo in grado di fermare questo tipo di malattia. Però nel corso degli anni e come puoi immaginare abbiamo visto qualche migliaia di pazienti ci siamo posti oggi questa domanda dicendo ma se normalmente nella malattia di Parkinson il paziente che si reca dal neurologo le visite vengono fatte semestrali e ogni sei mesi il paziente Parkinsoniano deve assumere un po' di farmaco in più perché la maggior parte dei nostri pazienti che utilizza gondola questa cosa non succede? Perché abbiamo tantissimi casi di pazienti Parkinsoniani che usano gondola da 3-4 anni inizialmente dopo l'utilizzo di gondola hanno ridotto il farmaco e a distanza di 3 anni non l'hanno più alzato? Perché probabilmente una delle spiegazioni in questo caso mi permetto di dire non scientifica ma perché è molto difficile riuscire a creare un qualcosa di questo tipo è che l'interazione dello stimolo con una dose molto più bassa e appropriata di farmaco in qualche modo riescono lo dico io non la scienza a rallentare questo tipo di malattia o questo tipo di degenerazione Ecco non si può parlare di miracoli perché verrebbe da sorridere però realmente ci sono persone pazienti malati che entrano in carrozzina e che escono con le loro gambe è successo questo non posso dire che sia di tutti così però l'abbiamo sentito anche raccontare Ha perfettamente ragione io adesso lei mi ha tirato questo sassolino in realtà succede molto spesso quello che sta dicendo se il paziente ha dei sintomi motori anche molto invalidanti e molto invalidanti vuol dire che questo che è un percorso di questo tipo come vedete il paziente cammina per noi è già un paziente che cammina bene quel signore che state vedendo in questo momento sul prima e quello che succede è quello che vedete di fianco ma a me capita spesso di vedere insieme ai miei colleghi dei pazienti che entrano realmente su una sedia a rotelle e un corridoio di 3-4 metri farlo in qualche minuto è magari sorretto da due persone e dopo la stimolazione non corre ma riesce a camminare in regime autonomo magari sostenuto perché è del tempo che non cammina ma con le sue gambe e facendo dei passi appropriati dunque è un qualcosa che avviene in maniera estremamente veloce il paziente arriva da noi lo valutiamo per quello che è con una diagnosi certa osserviamo i fenomeni che sono quelli invalidanti facciamo questa stimolazione come dicevo è estremamente veloce lo lasciamo seduto sul lettino un paio di minuti perché comunque in qualsiasi caso è comunque una stimolazione esterna e il paziente non se lo aspetta e noi per precauzione lo lasciamo seduto un paio di minuti anche per la pressione non è invasiva non è assolutamente invasiva non si viene bucati non ci sono scosse elettriche anche perché l'Optimum per noi come una stimolazione è una stimolazione leggermente fastidiosa cosa vuol dire? vuol dire che nel corso degli anni abbiamo messo a punto questo protocollo nei primi anni di attività di gondola si pensava che una delle cause che in qualche modo poteva migliorare questo nostro questo miglioramento del cammino fosse il dolore allora noi andavamo a creare questo stimolo finché il paziente diceva ahia mi fai male e lì per lì sembrava che in qualche modo funzionasse all'inizio poi lo si riproponeva questo durante i test chiaramente lo si riproponeva nelle settimane successive e non si aveva questo beneficio così importante e questo ci è servito tantissimo proprio perché oggi abbiamo capito qual è lo stimolo giusto nel nostro cervello lo stimolo è che il paziente indossato in questi due scarponcini ha necessità di sentire solo fastidio allora se non sente niente niente succede se sente fastidio cioè il fastidio in qualche modo deve dare la possibilità al paziente per avvertire fastidio tu devi essere molto attento tipo la sensazione di un sassolino nella scarpa quando no no la deve immaginare diversamente come se qualcuno le mette un dito sulla gamba schiaccia e dice non sento niente ecco così comincia a darmi fastidio questo cominci a darmi fastidio il nostro cervello per sentire fastidio deve essere molto attento a quello che succede perché nel momento in cui invece creo dolore il fastidio da dolore crea una retrazione e dunque lo stimolo non riesce ad arrivare al nostro cervello dunque la stimolazione è basata su un fastidio quando il paziente dice ho leggermente fastidio per noi è più che sufficiente per riuscire a fare questo tipo di stimolo 96 secondi dopo abbiamo l'idea 9 volte su 10 succede così che il paziente ha ricevuto questo tipo di stimolazione ed è pronto per incominciare a camminare ecco anche qui stiamo vedendo un paziente una persona abbastanza giovane questi qua sono dei pazienti che tendenzialmente hanno 5-6 anni di Parkinson nel momento in cui incominciano il vero problema è sempre lo stesso è l'innesto della marcia cioè la partenza è molto difficoltosa anche i cambi direzionali quell'oggetto per terra serve proprio per fare in modo che il paziente di girargli intorno a compiere questa azione per il cervello è estremamente difficoltoso ecco questi qua sono i veri problemi del Parkinson lei capisce che la scrittura che per l'amor di Dio può essere un problema molto serio ma rispetto a un innesto della marcia è poca cosa queste persone guidano la macchina così per curiosità guardi questo qua a volte mi meraviglio perché arrivano in un ambulatorio in condizioni veramente non buone e spesso mi sento dire io guido ancora secondo me c'è anche tanta incoscienza nel senso che quindi migliora anche la possibilità di guida di attenzione perché insomma questi io penso io penso che il nostro compito non sia quello di far guidare me lo domandavo perché secondo me queste persone sono piuttosto giovani la macchina un paziente Parkinsoniano di 40 anni che assume la dopamina da 4 a 5 anni e dunque ha 45 anni cioè molto giovane e incomincia ad avere queste turbe questi blocchi motori sì secondo me usando gondola riesce comunque a coordinare di più movimento e sicuramente ad essere molto meno di pericolo agli altri questo sono abbastanza convinto ma vede il nostro compito non è questo il nostro compito è di prendere un paziente sulla sedia a rotelle e ridargli la possibilità di andare in bagno e dargli la possibilità di condurre una vita migliore di prima e questa è la nostra mission tenga considerazione che noi è una domanda che mi è sorta perché secondo me queste persone comunque non vogliono abbandonare la loro vita e diciamo che anche spostarsi con la macchina a livello autonomo è diciamo una delle cose fondamentali no? sì sì assolutamente ma torno a ripetere pazienti che vengono da noi pregondola poter camminare con le proprie gambe e non essere più su una carrozzina su un divano è sicuramente la cosa più grande che voi potevate fare che noi facciamo sì questo è un enorme un enorme un enorme passo avanti il torno a ripetere però il paziente giovane che torna con la macchina che va con la macchina sicuramente è molto importante da noi dicevo prima ma non ve lo domandano? non ve lo domandano? no non è una cosa una delle cose che di più sentiamo dire è ma io ritornerò a camminare ecco che è è quella più è un po' più importante rispetto a avere delle performance che in qualche modo possono allora vedo che la regia ci sta richiamando il jingle per la prima pausa pubblicitaria noi ci lasciamo per qualche secondo per poi parlare nella seconda parte della innovazione tecnologica perché i video che voi avete visto si riferiscono solo a qualche mesetto fa e già erano sofisticati di loro ma oggi ulteriormente è stato fatto un passo in avanti perché questo dispositivo medico portatile che quindi tutti possono fare comodamente a casa propria non ha più bisogno diciamo di essere diciamo utilizzato le prime volte sotto l'ausilio magari di un operatore tecnico perché adesso viene fatto tutto in 3D col computer e ognuno ogni paziente può indossare comodamente il dispositivo semplicemente lo vedete lì ponendo il piede all'interno di questa super scarpa super gondola super gondola comunque davvero incredibile vi facciamo vedere il funzionamento come questo nuovo dispositivo che è davvero ingegneristico a tra poco bene tornati in studio in questa seconda parte dedicato appunto a gondola nuova terapia per i disturbi motori lo stiamo facendo assieme al dottore Stefano Tassin fisioterapista ma anche direttore scientifico di gondola technologist e appunto di tecnologia parliamo in questa seconda parte ma prima di tutto vorrei entrare nella pancia nel cuore nell'animo di coloro che magari stanno seguendo che in prima persona soffrono purtroppo di questa patologia oppure hanno un familiare un conoscente che è davvero invalidato da questa patologia neurodegenerativa allora proprio partendo da alcuni racconti di testimonianze di pazienti vogliamo far capire in che modo cambia la vita il Parkinson come si diceva nella prima parte la malattia appunto porta una degenerazione veloce dei sintomi motori e dunque la maggior parte dei pazienti ne ho in mente qualcuno che dopo aver provato questo tipo di stimolazione pazienti anche molto giovani che non uscivano più rimanevano in casa la vergogna di farsi vedere la paura di rimanere bloccati per la strada e poi la gioia di sentirmi dire dottore guardi che finalmente ho ripreso la mia attività finalmente esco con gli amici ci sono tante testimonianze toccanti dove in qualche modo ci vogliono andare avanti a fare sempre del bene la maggior parte dei pazienti soprattutto giovani tende a chiudersi in se stesso ho ben presente un paziente che ho conosciuto 5-6 anni fa che è venuto nel nostro ambulatorio è venuto con la sedia a rotelle dicendo la mia vita è finita ballavo con mia moglie da quando mi è successa questa cosa qua ormai quanti anni ha detto? lui aveva 65 anni 65 anni sono passati circa 4-5 anni da quell'evento e si è presentato con la moglie nell'ambulatorio con la sedia a rotelle dicendo qualche passo riesco anche a farlo ma poi cado per terra è più il tempo che sono all'ospedale che tutto il resto dopo aver fatto queste due stimolazioni di prova noi facciamo due stimolazioni per verificare se il paziente ha la risposta giusta a questo tipo di trattamento il paziente si è dotato di questo dispositivo e circa due mesi due mesi e mezzo dopo ho ricevuto la prima telefonata dicendo piano ma con mia moglie incomincio a fare i primi passi di ballo questa è stata un'emozione incredibile ogni tanto mi capita di rivederlo soprattutto al sabato al mercato che abita poco lontano da casa mia mano nella mano con la moglie che vanno al mercato pensare che cinque anni prima era su una sedia rotella per me è stata una cosa incredibile ce ne sono veramente tanti quindi state invertendo un po' il senso di marcia di questa patologia stiamo invertendo il senso di marcia o insegniamo forse altre aree del cervello a prendere il posto delle aree che non funzionano per fare in modo che il paziente ne abbia un beneficio motorio è sempre molto difficile perché quando parli di una terapia che in 96 secondi in meno di due minuti un dispositivo che hai a casa in meno di due minuti riesci a dare questi tipi di risultato sembra quasi fantascientifico però vi assicuro che è proprio così veramente toccante qual è diciamo l'emozione che maggiormente ritrova i suoi pazienti la prima volta che provano gondola piangono ridono ho due tipi di pazienti li ho divisi in due gruppi il paziente è un po' anzianotto molto anziano che viene portato dai figli che dopo la stimolazione incomincia a fare i primi passi da solo io vedo normalmente i figli che rimangono con gli occhi sbarrati dicono papà stai camminando e papà che si gira dicendo ma io ho sempre camminato questo qua è il primo caso il secondo caso invece i pazienti sicuramente più giovani dove comunque hanno comunque un'aspettativa di vita superiore mi guardano in faccia creano questo sorriso dicono non ci credo e nessuno che piange di solito il pianto viene nella seconda volta ecco c'è il pianto perché c'è una sorta di scetticismo che probabilmente avrei anch'io post terapia dicendo chissà quanto dura nel senso che magari uno dice si è vero adesso sto bene per un'ora o due ore ma probabilmente c'è l'ambiente medico c'è tutta una serie di circostanze che in qualche modo mi fanno stare meglio voglio vedere dopo e sentirli dire nella seconda occasione sono stato bene per tre giorni sono riuscito a fare delle cose incredibili in questi tre giorni questo già dal primo si fin dalla prima volta trattamento dalla prima seduta deve essere molto chiaro questo passaggio il paziente parkinsoniano arriva da noi perché ha un problema no? perché se il farmaco fosse in grado di gestire interamente questo tipo di malattia avrebbe poco senso venire da noi anche se sono abbastanza convinto che col passare degli anni prima riusciamo a dare gondola al paziente parkinsoniano secondo me i benefici saranno molto molto maggiori comunque in qualsiasi caso il paziente arriva da noi con delle turbe del cammino come questi video dove si evidenzia il vero handicap del paziente dove ci racconta la sua storia dove ci indica ci spiega i blocchi motori durante la giornata le difficoltà che ha sia durante il giorno sia alla notte viene sdreato sul lettino vengono marcati questi due punti ben precisi da del personale altamente qualificato non sono sono proprio dei punti specifici chiaro viene posizionato questo questo strumento viene tarato sul fastidio che abbiamo detto prima non sul dolore dunque il paziente controlla il controllo di se stesso viene tarato con questa punta che scende torno a ripetere non è una terapia del dolore crea soltanto del fastidio molto sopportabile e soprattutto la durata meno di due minuti si toglie il dispositivo quello che state vedendo dopo due minuti il paziente rimane seduto un paio di minuti perché fa parte del nostro protocollo dopodiché incomincia a camminare ecco io banalmente forse erroneamente ho detto questa scarpa non è una scarpa è un dispositivo è un dispositivo medico come potete vedere i pazienti dopo che l'hanno che si sono sottoposti al trattamento rindossano le loro scarpe assolutamente la parola scarpa spesso mi dicono senta ma io come faccio a camminare con queste cose ai piedi ecco c'è questa questa sorta di in realtà no è un device è uno strumento medico come lo potete vedere questo qua è uno strumento di vecchia generazione dopo parleremo di quello nuovo dove aveva comunque bisogno di un operatore che andava a modificarlo a sistemarlo e a creare lo stimolo che dicevo prima per poi provare appunto a vedere se era efficace o non efficace questo strumento che state vedendo in questo momento era lo strumento che poi tarato da noi veniva dato al paziente con sicuramente risultati importanti ma difficile da usare perché è difficile da usare perché comunque il paziente non era controllo di sé nel senso che hai bisogno comunque un parente o una persona vicino a te che ogni tre giorni quattro su quello che abbiamo stabilito inizialmente ti prende il dispositivo te lo toglie dalla borsa e te lo indossa altri problemi possono essere legati insomma provi a immaginare un uomo di 80 anni che deve ricevere la terapia da una donna di 78 che è la moglie a parte le litigate no mi stai facendo male gira non hai capito una serie di cose questa è proprio la quotidianità sì sì è la quotidianità dove alla fine magari la telefonata che dice ecco vi la faccia lei perché non sono capace di farla insomma ci sono stati una serie di problemi sulla base di questi anni bravissima e avete fatto anche un'innovazione tecnologica allora se la regia ci manda in onda al video va bene che voi siete in Svizzera però non siamo al CERN ah certo dove ci sono le ricerche diciamo quale a livello mondiale sulla fisica quantistica e altro però siamo in questo centro di ricerca sì ci può spiegare qual è stata l'evoluzione di questo dispositivo medico innanzitutto è semplicissimo bravissima innanzitutto abbiamo raccolto tutte le cose che non funzionavano nel vecchio dispositivo cioè la difficoltà a indossarlo ci siamo muniti insieme a degli ingegneri molto bravi siamo all'interno di Gondola Technology c'è un gruppo di ricercatori e soprattutto di ingegneri estremamente alla vanguardia dove hanno ascoltato i nostri problemi e hanno cercato di risolverli in maniera estremamente semplice con delle apparecchetture estremamente sofisticate il paziente arriva da noi abbiamo uno scan scanner 3D portatile molto bello di ultima generazione riusciamo a ricostruire vediamo un attimo se torna indietro la regia praticamente io diciamo paziente parchinsoniana paziente parchinsoniana ha fatto le due valutazioni e dunque si è resa conto che il dispositivo è idoneo e dunque il paziente ha risposto molto bene a questo punto ritorna da noi utilizziamo questo scanner che sta vedendo riusciamo a scannerizzare completamente il piede del paziente a ricostruirlo in 3D ok e sulla base di questa ricostruzione costruiamo un plantare lo vedete in queste immagini quindi il plantare destro sarà differente da è il suo piede il destro e il sinistro sono due piedi completamente diversi chiaramente in base a come hai fatto il tuo piede viene il suo piede dal suo piede dunque da questo scanner 3D viene scannerizzato da un dispositivo e costruisce il vero e proprio plantare che è quello che state vedendo dunque è tuo personalizzato all'interno di questo plantare ci sono già customizzati i motori che vengono poi a creare lo stimolo e poi viene montato il dispositivo che è quello che adesso poi vi farò vedere in quindi questo dispositivo che noi stiamo vedendo il plantare in 3D a livello tecnologico è lavorato il computer è il piede della persona che era seduta su lettino bravissima con tutti i suoi pregi con tutti i suoi difetti facciamo finta che quella signora o signoressa non mi ricordo sia il proprietario di questo dispositivo che noi abbiamo qua che cosa succede? no perché uno poi si domanda cosa devo fare? cioè a differenza dell'altro che c'era bisogno di qualcuno che urlavi tutto il giorno perché te la faceva male perché gli faceva male qui abbiamo reso autosufficiente al 100% il paziente il paziente si troverà questo tipo di questo che bello quando viene realizzato bravissimo questo plantare che è esattamente la coppia del suo piede le due unità vengono messe a terra c'è addirittura sotto un materiale antiscivolo sotto questa nuova gondola come potete vedere lo indossa in questo modo inserisce nella sua sagoma i suoi piedi schiaccia quel bottone nero quando lo vedete di fianco a quello rosso ed eroga la terapia da solo 96 secondi 96 secondi dopo di che dopo di che toglie la macchina si spegne in automatico toglie i suoi piedi e riporta e ricomincia a camminare dopo 4 giorni ripete l'operazione quindi si mette il dispositivo destra a sinistra destra a sinistra c'è un piccolo cavetto il tasto da schiacciare è quello possiamo dire se succede qualcosa se lo accenniamo adesso eroghiamo la terapia che si chiama terapia AMPS che va stimolazione periferica allora non succede nient'altro che schiacciando il bottone noi settiamo come facciamo in ambulatorio settiamo gli stimoli su quel tipo di paziente il paziente porta a casa il suo dispositivo mette le due unità per terra vengono girate entrambi in questo modo dunque posizionate per terra il paziente inserisce nelle sue impronte il suo piede schiaccia il tasto nero e parte la sua terapia quindi adesso sta partendo la terapia? adesso non la sto facendo schiacciando ecco adesso in questo caso ecco sta partendo in questo momento sono curiosa e non ho visto neanche io come funziona ci sono questi attuatori che uno in maniera sincronizzata escono fuori e vanno a stimolare le punte i punti che abbiamo detto prima in 96 secondi quindi non si sente calore non si sente assolutamente si sente un leggero fastidio in determinati nei punti che voi con il software del computer avete stabilito che abbiamo stabilito noi finisce la terapia emette 4 spit 4 piccoli suoni la macchina si spegne in autonomia e il paziente ha finito toglie i suoi piedi e ci ripensa tra 4 giorni quindi da 2 a 5 giorni io ho questi dispositivi li metto via nell'armadio assolutamente si li prendo e li metto via anche il fatto non so semplicemente il doverlo caricare bisogna farlo attaccate alla corrente il dispositivo il dispositivo precedente aveva un problema anche di batterie nel senso che le batterie che venivano montate duravano circa 6 mesi e poi andavano sostituite in questo nuovo device questa nuova apparecchiatura le batterie sono al litio dunque sono come quelle dei telefonini per intenderci ha il suo caricatore e ogni 10 12 stimolazioni lo si mette sotto carica come un telefonino per un paio d'ore 2-3 ore e lui rimane sempre carico un'altra cosa estremamente importante è bella che questo tipo di apparecchiatura è seguito da un'applicazione che noi scarichiamo sul telefono del paziente per avere il controllo della propria gondola cosa vuol dire questo? vuol dire che nel momento in cui la gondola è accesa accendendo l'applicazione il paziente sa quanta corrente ancora di batteria c'è all'interno quanta batteria rimane ancora all'interno del dispositivo prima di ricaricarla poi tutta una serie di altre informazioni gli può dire oggi è il giorno di gondola dunque ricordaglielo e un'altra cosa estremamente importante è che noi abbiamo la possibilità di poter controllare il dispositivo in remoto cosa vuol dire questo? vuol dire che il paziente il signor Rossi che è il titolare di questo dispositivo che lo porta a casa dopo un mese o un mese e mezzo si rende conto che la terapia funziona bene ma magari camminando meglio si può leggermente modificare il piede e dunque può avvertire che uno di questi quattro punti sia un po' debole rispetto agli altri non ha bisogno di venire in ambulatorio basta che accende la sua applicazione accende gondola gli chiediamo di mettere i piedi all'interno del suo dispositivo e noi dalla Svizzera dove siamo siamo in grado di andare a modificare i parametri della gondola stessa così che il paziente ha sempre la gondola aggiornata senza bisogno di spostarsi da casa senza bisogno se poi lontano di andare in ambulatorio e dunque abbiamo un controllo totale sappiamo le volte che fa la terapia quindi niente più liti in famiglia tra moglie e marito sono finiti assolutamente oppure non c'è più bisogno dell'ausilio dei figli ma pensi soltanto alle persone che sono sole a prescindere dalla comica marito e moglie ma noi abbiamo tantissimi pazienti che sognavano di avere a casa la gondola ma non potevano perché dicono in qualche modo chi mi fa la terapia perché poi se devi pagare una persona che due volte a settimana viene comunque a casa tua a metterti sullo scarponcino comunque a costo e avere la possibilità di averlo invece in questo modo dove completamente è autosufficiente io penso che sia un enorme un enorme vantaggio molto facile pesa molto meno è facile di trasportare 5 minuti il tempo di togliersi molto meno se uno ha le scarpe le calze togliamo le calze le scarpe inseriamo dentro schiacciamo due volte il bottone una volta per accendere il dispositivo una volta per erogare la terapia poi torno a ripetere l'applicazione e quant'altro noi lo abbiamo persone che sono un po' anziane che non hanno lo smartphone o quant'altro lo programmiamo noi per andare tendenzialmente bene dunque non gli rimane soltanto che accendere il bottone e basta è anche molto facile da un punto di vista di ricarica c'è un cavo si attacca alla corrente elettrica è più o meno come ricaricare un telefonino però dura non è che bisogna lasciarlo sotto carica no 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 ogni 5 o 6 terapie anche 10 terapie lo si prende lo si mette sotto carica quindi una volta ogni mese mese e mezzo due mese mese e mezzo dipende dalle volte che fai la stimolazione lo si carica un'ora un'ora e mezza la corrente domestica è più che sufficiente per mantenere molto facile è molto più leggero pensa esattamente la metà da 5 kg siamo passati a 2 kg e mezzo quindi è molto facile dunque le persone anziane lo mette a tracollo se lo porta in giro all'aeroporto e quant'altro ah giusto se qualcuno fa un viaggio non c'è problema assolutamente è una certificata per girare in tutti gli aeroporti del mondo dunque non ci sono ci sono viaggiatori tra i vostri ce ne sono tantissimi io che viaggio spesso insieme ai miei colleghi che ci richiamo spesso nei vari centri di ricerca mi capita spesso nei vari aeroporti di vedere qualcuno con una borsa blu in mano che è la nostra dunque sì mi capita spesso di vederli ed è molto bello perché pensare che probabilmente quei pazienti lì non potevano trovarsi lì perché erano inabili al lavoro e vedere che in aeroporto camminano con la loro macchinetta noi pensiamo di avere creato qualcosa di bello in un mondo che a volte non è proprio così bello voi collaborate anche con dei centri di ricerca anche con gli ospedali assolutamente cosa ne pensano di questa tecnologia? è arrivato il momento del grande cambiamento inizialmente come tutte le cose innovative sembrava qualcosa che in qualche modo poteva ledere i farmaci o comunque guardarla come un qualcosa di assolutamente non idoneo nel mondo della medicina o del Parkinson adesso sempre di più neurologi conoscono gondola le pubblicazioni sono veramente importanti incominciamo a avere sempre dei partner scientifici sempre di più su tutti i territori europei presto saremo in America dove gli americani una volta tanto siamo noi a portare un'innovazione in America non viceversa incominciamo a avere veramente tante persone che si rendono conto che utilizzare questo dispositivo vuol dire cambiare la vita a tante persone tenga considerazione che quando parliamo di malattia di Parkinson e malattia del disordine nel movimento non è solo legato al Parkinson noi siamo certificati per quello ma ci sono una serie di altre persone magari anziani che hanno delle turbe del cammino non hanno una diagnosi di Parkinson o hanno un Parkinson molto molto basso ma hanno dei sintomi molto simili o tantissime persone attassiche le persone attassiche che magari hanno queste andature con questo atteggiamento a passo corto e gambe aperte che fino a poco tempo fa non avevano nessun tipo di speranza di miglioramento proprio perché anche quella è una grande turba non fa parte del Parkinson ma la via di afferenza è la stessa dunque ultimamente mi è capitato di dare a un paziente con un problema importante che ha avuto un'encefalopatia che si è presentato in un ambulatorio speranzoso dicendo lo so io non ho il Parkinson però anche se miglioro tanto così per me va bene portarmi la casa perché ho bisogno di muovermi in realtà anche lì con tanto stupore anche se siamo sempre molto con i piedi di piombo perché non sono cose che noi facciamo nella regolarità ho visto un miglioramento incredibile il paziente ha a casa il suo dispositivo e continua a ringraziarci cioè ci sono tanti tipi di disturbi motori ma secondo voi visto che siete riusciti a avere questo risultato che è eccellente nel mondo dei disordini del movimento è possibile arrivare anche a altre aree del cervello secondo voi noi siamo sempre alla ricerca facendo ricerca su questo facciamo sì in realtà avendo scoperto tante cose con questo dispositivo e con questa stimolazione indubbio che la nostra idea è di spingerci sempre più in là ad esempio ci siamo già spinti nel mondo dell'ictus dello stroke infatti era lì che dicevo riuscite bravissima noi abbiamo tanti pazienti adesso stiamo costruendo dei lavori clinici in ospedale chiaramente per dimostrare l'efficacia anche su queste problematiche dove paziente che utilizza il dispositivo sin dalla prima volta con un imperme motorio elevato l'ictus o lo stroke è un qualcosa che ti viene non è una malattia neurodegenerativa è un evento ischemico che ti viene e ti paralizza tendenzialmente metà parte del corpo o a destra o a sinistra pazienti però può prendere più la parte omotoria o verbale tendenzialmente prende proprio metà e dunque hanno un'inabilità importante fino a ieri faceva il rappresentante e il giorno dopo si trova paralizzato a metà su questi pazienti noi abbiamo già provato lo stiamo sperimentando e abbiamo degli ottimi risultati soprattutto sempre sulla parte motoria cioè mentre non brillano tantissimo non mi sembra che brillino tantissimo i risultati sulla parte superiore del braccio ad esempio se si è paralizzata ma a livello di deambulazione e di equilibrio migliorano tantissimo perché forse ci dovete ancora arrivare un po' alla volta ci state cercando perché davvero è partito da questa sua intuizione davvero molto pespicace per arrivare poi ad una ricerca tecnologica super avanzata si matti tutti ci hanno creduto tutti siamo andati avanti siamo sempre di più e adesso siamo arrivati ecco però voi so che questo centro di ricerca è in Svizzera però collaborate anche in Italia avete diversi centri nei quali voi vi appoggiate poi diamo tutti i riferimenti a fine trasmissione assolutamente quindi questo è un dispositivo medico purtroppo l'avevamo menzionato forse non so se ci sono stati sviluppi a pagamento privatamente quindi adesso non possiamo assolutamente parlare di corsi però sì a pagamento come tantissime altre cose purtroppo la condizione italiana i famosi nomenclatori tariffari della sanità sono fermi dal 99 dunque non è una novità ci sono tantissime terapie estremamente innovative come gondola che possono migliorare in maniera estremamente significativa la vita di pazienti anche in altri ambiti dove purtroppo la condizione è che se ne hai bisogno la devi pagare ecco questa qua dunque non è un problema di gondola però se si pensa che si ritorna ad una qualità di vita maggiore e si ha maggiore indipendenza magari i soldi scusate il termine che si spendono per un accompagnamento di una persona assolutamente invece si riprende la propria autonomia e quindi quella spesa in famiglia non c'è più era solo questo che volevo fare capire in qualsiasi caso il gondola technologist che ha questo device che ha questo strumento e continua a fare ricerca c'è una parte di operatori all'interno del gruppo che sta inoltrando una serie di pratiche per cercare di avere di spingere per avere la rimborsabilità anche in Italia perché comunque il futuro sarà questo allora io sono abbastanza certo perché tenga in considerazione che un paziente parkinsoniano che ha rischio di cadute cento volte in più rispetto a un paziente di parietà pensiamo il costo che ha a livello della spesa sanitaria bravissima tenga in considerazione che una frattura ad anca in Italia tra degenza e post degenza e intervento chirurgico si aggira intorno ai 30.000 euro dunque allo Stato in qualche modo se mi sta ascoltando qualcuno ma anche basta pensare la riabilitazione forse vale la pena investire molto molto meno in un device di questo tipo dando la possibilità ai pazienti di aumentare la qualità della vita e rischiare di cadere molto meno ecco anche la riabilitazione in ospedale viene passata dal sistema sanitario anche la riabilitazione in ospedale e anche lì ci sarà un costo bravissima anche lì c'è un costo molto alto sono 4 settimane in ospedale bravissima più la riabilitazione e vari assolutamente cioè la nostra idea comunque anche in questi centri di riabilitazione è arrivare con questo dispositivo dunque voglio dire un dispositivo di questo tipo che migliora in maniera estremamente importante la qualità del movimento unita a una sana riabilitazione a questo punto fattibile sono convinto che ci sia un enorme vantaggio anche per il sistema sanitario bene io dottor Tassin la ringrazio ricordiamo che quindi gondola è utile non tanto per allungare la vita a chi soffre di Parkinson ma per dare più qualità alla vita assolutamente quindi è davvero è stata davvero un'ottima intuizione un ottimo lavoro che avete fatto lei con il suo staff la ringrazio e auguro ai nostri telespettatori un buon proseguimento di serata con i nostri programmi grazie ancora arrivederci a Grazie a tutti.